Allora, è arrivato Marco Minniti, lo faccio subito entrare. Buongiorno, ben trovato. Marco Minniti, lo sapete tutti, è stato ministro dell'Interno in un periodo molto complicato del nostro paese, nel 2006-2018, durante il governo Gentiloni. Oggi presiede la fondazione MedOr, che ha l'obiettivo di dialogare, fare una cosa dell'Italia con i paesi del Mediterraneo, ma è un uomo che ha una grande esperienza sulle questioni internazionali, peraltro è stato anche responsabile per lungo tempo dei nostri servizi segreti, conosce la Russia, conosce i suoi meccanismi, che forse sono una delle cose più importanti in questo momento, perché noi facciamo una gran fatica a capire quali potrebbero essere le prossime mosse di Putin, facciamo una gran fatica a capire se esiste un modo per uscirne, perché vediamo sul campo una guerra tremenda che ci distrugge. Io sono una generazione che non ero abituata all'idea di poter sapere che c'è una guerra come questa. Sono veramente molto provata da questo racconto. Dall'altra parte però vediamo che a livello di negoziati tutto sembra sempre in qualche modo immobile. Sì, condivido la sua angoscia, condivido il suo approccio non banale a quello che sta avvenendo. quello che sta avvenendo in Ucraina è una di quelle cose che segneranno e cambieranno il corso del mondo. Ne parleremo per lunghissimo tempo anche dopo, sperando che la vicenda si concluda relativamente presto e ho dei dubbi che si concluda relativamente presto. Tuttavia, se mi è consentito fare una piccola battuta un po' più leggera, vedo che siamo attrezzati con il massimo della deterrenza, cioè l'ordigno fine mondo. Ti riferisci a questo? Io lo uso anche in tempi di pace, ma effettivamente... Da questo punto di vista diffondiamo le immagini, siamo anche noi attrezzati con il massimo della deterrenza. Cosa sta avvenendo? Cosa è avvenuto in Russia? E' avvenuto che per una lunga sottovalutazione che ha avuto l'Occidente, che ha avuto l'Europa, che hanno avuto gli Stati Uniti e di quelli che erano gli effettivi disegni di Putin, noi oggi abbiamo l'esplicitarsi non della ricostruzione dell'Unione Sovietica, come a volte si dice, questa è la mia opinione, ma l'idea del rilancio dell'Impero Russo. Qualcosa che tende a tenere coeso il popolo. Noi abbiamo in questi giorni delle manifestazioni molto importanti contro la guerra. Ieri c'è stata questa clamorosa dimostrazione nella televisione di Stato durante il Tg, quella donna che con caraggio straordinario... Voglio farvela vedere, perché ha ragione... Che con coraggio straordinario ha detto no alla guerra, vi stanno raccontando un sacco di balle... In un paese come la Russia è stata una cosa veramente straordinaria. Tuttavia è lecito pensare che una parte del popolo più profondo, la parte più ampia del popolo profondo, sia ancora con Putin. E Putin la tiene insieme con questa idea, magari le cose in Russia vanno male, magari... La stiamo vedendo, no war, la giornalista... E straordinaria, andrebbe dato il premio Pulitzer, diciamo, a questa straordinaria donna. Ma di grande coraggio, purtroppo invece è scomparsa in Russia, secondo i suoi avvocati. E sarebbe compito anche nostro, se mi è permesso, proprio della libera informazione dei Paesi liberi, non fare cadere il silenzio su questa giovanissima e coraggiosissima donna. Noi non dobbiamo avere pace finché lei non sarà libera di poter continuare a fare il suo lavoro. E questo deve essere un impegno d'onore, se mi è consentito. Stavo dicendo, l'idea di una Russia imperiale. E' l'idea della Russia imperiale che, tra virgolette, prende possesso di un territorio che lui considera, tra virgolette, un'espressione della Russia, l'Ucraina. Se voi ricordate, quando la sera prima di lanciare l'attacco vero e proprio all'Ucraina, lui fece un ragionamento sulla storia dell'Ucraina, dicendo di fatto non esiste come nazione. E così. Non c'è cosa peggiore che si possa fare nei confronti di un paese che negarlo come nazione, come popolo. E quello che stanno facendo gli ucraini è la risposta più ferma e più netta a quella affermazione. Non solo l'Ucraina esiste come nazione, ma esiste come popolo fortemente questo. Poi una parte parla russo, ma combatte i russi. Detto questo, c'è una storia straordinaria che è come è nato il fenomeno Putin. E chi avesse voglia di leggerlo, c'è un libro scritto da un'autrice anglosassone il cui titolo è Gli uomini di Putin. Ed è uno spaccato straordinario su cos'è Putin e su cos'è il putinismo. Nel senso che a un certo punto vi ha raccontato una storia che sembra di fantasia, ma di fantasia non è. E cioè, mentre sta percrollare l'Unione Sovietica, a un certo punto un gruppo di comando del KGB, di cui non fa parte Putin, perché Putin all'epoca era un ufficiale subalterno, si riunisce per decidere di andare avanti in ogni caso. Il KGB è il KGB, per quelli che ne capiscono. Noi diciamo KGB sbagliando. Il KGB è il principale servizio segreto dell'Unione Sovietica, oggi trasformato in FSB, ma i capi sono sempre gli stessi. Il gruppo si riunisce e decide di andare avanti nonostante anche il crollo dell'Unione Sovietica. Si chiama l'operazione Sanbin, l'operazione il raggio di sole. E, tra virgolette, prendono diversi miliardi di dollari e li mettono in varie banche del mondo, tra cui alcune banche italiane, non quelle attuali, diciamo, di diversi anni, diversi decenni fa. A un certo punto, quando crollo dell'Unione Sovietica, loro si rivelano. E Putin è il figlio di questa storia. È il figlio di una storia che appunto oggi ha nei posti chiave della Russia gli uomini del KGB. Non dimentichiamoci mai che accanto a Putin, oggi magari con posizioni non del tutto coincidenti con Putin c'è Nicolai Patrushev, che è il consigliere per la sicurezza nazionale, usiamo un termine più banale, è il capo dei servizi segreti. Quello concluerebbe quella specie di diverbio, diciamo, per cui ci disse. No, non era quello. Con quello Putin non si sarebbe permesso di avere un diverbio. Con tutto il rispetto, diciamo, per una ragione semplicissima, che quando Putin era tenente colonnello del KGB o del KGB, Patrushev era già generale. E lei sa che in questo caso le generarchie non cambiano mai. Ecco, questo è il gruppo di comando. E' un gruppo di comando che capisce una sola cosa, se mi è consentito. Sono i rapporti di forza. Ed è per questo che è importante tenere insieme le due leve. da un lato dimostrare di non cedere e contemporaneamente tenere aperta la via diplomatica. Voi mi direte, ma come? C'è contraddizione tra le due cose? Non c'è contraddizione nella Russia attuale. Ci fermiamo perché me lo deve spiegare bene. Esatto, capisce solo i rapporti di forza, non solo Putin, ma i suoi uomini. E dunque su questo dobbiamo ragionare. Vedo che è arrivato...